Rigorosamente in diretta in questa domenica mattina. Vogliamo ricordare una frase, un invito che il Santo di Pietrelcina faceva spesso a coloro che si recavano a San Giovanni Rotondo e i suoi figli spirituali, subito dopo l'inaugurazione della Casa Sollevo della Sofferenza, della sua opera della Provvidenza. Padre Pio invitava tutti a donare il sangue, un gesto importante, un gesto che continua a salvare tante vite. In questi giorni a San Giovanni Rotondo si sta svolgendo il secondo meeting della Fratellanza della FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Io ho il grande piacere di avere i nostri ospiti questa mattina in studio. Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale della FIDAS, che abbiamo ascoltato molte volte telefonicamente. Buongiorno, presidente, benvenuto. Buongiorno, ben trovata. Do il benvenuto al dottor Giuseppe Aprile, past president della Società Italiana Medicina Trasfusione Immuno-Ematologia, relatore del seminario FIDAS, la medicina della solidarietà. Buongiorno, professore. Buongiorno. È un piacere averla nostro ospite. Allora, partiamo dal dottor Caligaris. La FIDAS a San Giovanni Rotondo per il secondo anno, questo meeting della Fratellanza, su che cosa si basa? Si basa sicuramente su un confronto, ma soprattutto su un approfondimento delle tematiche legate alla donazione del sangue. Tra noi associativi, ma soprattutto nei confronti dei cittadini, ma soprattutto nei confronti dei giovani, è importante diffondere questa cultura della solidarietà, questa cultura della donazione del sangue. La donazione del sangue e dei suoi componenti è la base e la garanzia del buon funzionamento del sistema trasfusionale del Paese, a garanzia, a sua volta, del buon funzionamento del sistema sanitario nazionale. Cioè il donatore è il punto di partenza per assicurare una terapia trasfusionale sicura e disponibile a tutti gli ammalati del Paese che ne hanno bisogno. E consideriamo che il sangue, spesso e volentieri, è la base per poter garantire non solo la chirurgia, la medicina, ma l'oncologia, l'ematologia, tante branche della medicina e della chirurgia che oggi hanno necessità di terapia trasfusionale con sangue, i suoi componenti o i medicinali plasma derivati. Bene, dottor Aprile, lei ieri durante il seminario che si è tenuto presso Casa Sollevo della Sofferenza ha relazionato sulla medicina della solidarietà. Quali sono stati i punti sui quali si è soffermato maggiormente? La medicina della solidarietà è un grande settore della medicina. Sicuramente, come diceva il Presidente, il problema centrale comunque resta la donazione di sangue. Se non c'è il sangue l'ospedale si ferma, la buona medicina non si può fare, non si può fare la buona chirurgia, ma non si possono fare neanche le frontiere del nuovo, le frontiere della ricerca. E quindi il problema della donazione di sangue è fondamentale. Però non ci si può fermare a questo. Oggi la tecnologia mette a nostra disposizione tutta una serie di presidi che noi non possiamo trascurare. La medicina della solidarietà quindi è non solo donare sangue, ma è anche donare le cellule staminali ematopoietiche. Pensiamo in Italia, nel mondo, quante persone hanno bisogno di trapianto di cellule staminali, malati di leucemia, altri malati. E quindi la possibilità che abbiamo, che ha ciascuno di noi, di portarsi in modo assolutamente tranquillo per la sua salute e per il suo fisico, a donare vita a persone che poi magari ieri ne parlavamo in questa rete di solidarietà planetaria possono appartenere ad altri continenti e che ricevono la vita attraverso di noi. Ma non è solo con la donazione adulta. Pensiamo e abbiamo affrontato anche il tema della donazione delle cellule staminali del cordone umbericale. anche la donazione di cellule staminali del cordone umbericale è una donazione che può essere fatta senza interferire nell'andamento del parto, senza creare nessun tipo di danno per la mamma e per il bambino e può diventare un momento di salvezza per tanti altri bambini. E non abbiamo parlato solo di questo, ci siamo allargati anche alla possibilità di donare i tessuti. Oggi come oggi i tessuti sono dei presidi fondamentali, moltissime tecniche di ricostruzione chirurgica. E allora abbiamo pensato anche ai donatori non più viventi, ma ai donatori che sono morti. Una persona può donare solidarietà anche quando la vita non c'è più. Allora abbiamo parlato del dono dei tessuti, del dono della cute, del dono dell'osso, perché tutte queste cose, sembra impossibile, ma in questo momento, in questa fase di ipertecnologia, in questa fase di medicina dove sembra che tutto sia legato alle macchine, agli strumenti, beh, ecco, queste cose assolutamente cruciali non possono essere fatte se non ci sono momenti di solidarietà, di donazione da un uomo a un altro uomo. Ed è questo un aspetto che noi appunto, parlando di medicina e della solidarietà, abbiamo voluto mettere in risalto ieri. È molto importante. C'è una frase molto efficace che si sente spesso quando si parla di donazione del sangue, che il sangue non si può fabbricare in laboratorio, quindi dobbiamo essere noi a donarlo. Quindi su questo fronte però, dottor Caligari, c'è da fare ancora tanta e tanta strada. Bisogna ancora convincere, ecco, le persone che è possibile donare senza poi risentirne fisicamente, che è un gesto bello e che davvero può salvare tante vite umane. C'è ancora un po' di, tra virgolette, ignoranza in questa direzione. Se hanno troppi pregiudizi ancora sulla donazione del sangue o mi sbaglio? È vero. Oggi in Italia, devo dire, c'è una realtà di volontari, volontari del dono del sangue, molto importante, di persone che responsabilmente, consapevolmente, come persone sane, si impegnano a donare il proprio sangue, i suoi componenti, e lo fanno in maniera continuativa. È vero però anche che per poter soddisfare il fabbisogno generale, nazionale, che è un fabbisogno, un'autosufficienza non frazionabile, cioè ogni singola regione, ogni singolo ospedale ha delle esigenze per poter assicurare una buona sanità ai propri cittadini. Però in un'ottica di circolarità, anche di mobilità sanitaria, noi dobbiamo guardare all'autosufficienza del Paese nel suo insieme. E questa autosufficienza che abbiamo conquistato negli anni con grande fatica, e devo dire con orgoglio, ormai da 5, 6, 7 anni siamo nella condizione di non dover più importare sangue e suoi componenti dall'estero, a volte però rischia di essere messa, diciamo, a repentaglio, perché nei periodi estivi, piuttosto che nei momenti di criticità, abbiamo delle carenze e quindi bisogna ricorrere a quella che è una compensazione tra le regioni, oppure a una chiamata della gestione quindi dei donatori di sangue, una chiamata in urgenza per far fronte a questo fabbisogno. Ma questo che quindi è un'autosufficienza dinamica, vediamola in una prospettiva proprio di continua necessità di rispondere ogni giorno a quelle che sono le esigenze, le emergenze, gli incidenti, pensiamo a eventi importanti che sono capitati nel nostro Paese che improvvisamente anche da un punto di vista emotivo hanno coinvolto persone a far fronte a quelle che sono i bisogni della medicina con una donazione spontanea, invece richiedono un impegno periodico e continuativo, perché la migliore donazione per poter garantire una buona terapia trasfusionale è quella fatta da un donatore periodico e responsabile, ma soprattutto noi abbiamo necessità di coinvolgere sempre di più fasce di popolazione giovanile, in particolare, perché abbiamo delle prospettive di aumento della qualità e della quantità della vita del cittadino, abbiamo un continuo miglioramento, l'abbiamo sentito dal dottor Aprile, della specializzazione della medicina e della chirurgia, abbiamo un innalzamento dell'età media e della qualità della vita dei pazienti oncologici e la terapia trasfusionale cresce. Di conseguenza noi abbiamo invece su un fronte demografico, e questo l'abbiamo evidenziato con uno studio Censis che ha comparato proprio l'andamento demografico del nostro Paese con le donazioni del sangue, abbiamo in prospettiva negli anni 2020 e 2030 un calo della popolazione, soprattutto nella fascia giovanile e nella fascia attiva. Di conseguenza se noi oggi non attiviamo dei meccanismi per coinvolgere, come giustamente diceva lei, nuovi donatori, soprattutto tra le persone giovani, tra le donne che costituiscono ancora soltanto un terzo dei donatori volontari del nostro Paese, ma anche direi dei cittadini di altre etnie che ormai sono integrati nella fascia attiva della nostra popolazione e probabilmente desiderano essere attivi anche con gesti di solidarietà e quindi partecipare a tutti i livelli sociali, etici del nostro Paese, abbiamo ancora necessità quindi di aprire queste nostre frontiere, chiamiamole così, verso altre persone. Quindi promuovere questa cultura di solidarietà oggi non è soltanto per garantire questa autosufficienza dinamica, ma soprattutto per essere responsabili nei confronti di ciò che accadrà nei prossimi 10-20 anni. E a proposito di giovani, il coinvolgimento delle fasce più giovani appunto della nostra popolazione, i futuri donatori. La FIDAS ha realizzato nell'ambito della campagna di comunicazione 2011 uno spot molto efficace, coinvolgendo due giovani campioni sportivi. Vediamolo insieme. Ciao, sono Martina. Io sono Simone. Attraversare le acque per chilometri, bracciata dopo bracciata, è per noi una grande emozione. Ma c'è un'emozione ancora più grande per chi ama lo sport e la vita sana. Allungare il braccio per la FIDAS, Federazione Italiana Associazione Donatore Sangue. Donare il sangue volontariamente e periodicamente significa mettersi in gara per la vita. Cosa aspetti? Entra anche tu in azione. Chiedo notore FIDAS, gareggia per la vita.